I sindacati dei tassisti, dopo esser stati ricevuti al MIT, hanno deciso di sospendere lo sciopero nazionale di 48 ore previsto per domani e dopodomani. Saranno nuovamente ricevuti il 17 giugno. Alla luce del confronto svolto, considerando l'effettiva riapertura di un dialogo e la volontà di trovare soluzioni concrete ai problemi posti, le organizzazioni sindacali hanno deciso responsabilmente di sospendere lo sciopero proclamato per 5 e 6 giugno, ringraziando i lavoratori del settore per la grande attenzione e partecipazione dimostrata che hanno portato alla riapertura del tavolo, spiegano le sigle sindacali, dall'incontro che si è svolto nella giornata odierna al Ministero dei Trasporti e alla presenza del Vice Ministro Edoardo Rixi è emersa in modo chiaro la volontà di approvare in tempi rapidi i decreti attuativi della legge 12-19 al fine di riuscire a contrastare realmente i diffusi fenomeni di concorrenza sleale e abusivismo presenti nel settore che pregiudicano la tenuta del servizio pubblico e delle sue garanzie a tutela dell'utenza concludono così le sigle sindacali